Modena No 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 no, non mi ho sparato frate, no non si sparo, alza le mani, alza le mani, si 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 tranquillo frate Yala, vai la, vai la, come si alza le mani? Ecco 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 Vai, vai, sali dall'altro lato del veicolo Ah, ok, ok, ok Sali, mi sali solo come ostaggio Ah, vabbè, se devo fare la rapina sto con voi Vengo pure io, bello Dai, dai, se mi hai dato la stecca, regà Vengo pure io, faccio ostaggio, dai Dai, regà Dai, regà Dai, regà, ma avete preso come ostaggio Io sto con voi, se devo fare la rapina Mamma ha dato la stecca Mi fate guadagnare, sono appena entrato in città, regà Dai, dai Vediamo come collabori con ostaggio Ma te preoccupiamo, ti faccio dai io i soldi da sti cazzo di pulotti Stato tranquillo, ci penso io Il vero problema sai qual è? Qual è? C'era uno con la paninale che ci ha visto, l'abbiamo sparato Hai raccorti i boss, lì, perché sennò qua va dopo il macello Sì, perché sento Bravo, bravo Ma posso fare un assist peloso per quello là che ha fatto un fiero di quelli grossi? Oh, vabbè, ma sti pauli, c'è il senso, ero un... Andorre mi a fare questa rapina Sto andando a fare la rapina Abbiamo preso un stagio più... Cioè uno di quelli che tipo collabora Ma io non è che collabora, regà, voglio fare rapine pure io, regà Non voglio collaborare, voglio rapine pure io No, è un nuovo regà Che cazzo? ancora ti metti da un punto con il binocolo al solito posto valore davanti alla vetrina non mette no non abbiamo la faccia del mettiti di essere lo stesso vabbè no così non si è o la polizia entra in tre veloci entra in tre veloci e vabbè passavano la stessa vai vai dire vediamo è durato aspetta nato vieni vieni qua dentro no alla nostra stessa posto oltre 3 aspetta 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 per te scimmie di merda se può passare la vena dai regata su su testo dai dai è bella ma parli un buon marchio ma che va mi senti non ti punta perché si aspettate raga che dico alla radio che gli eser to che così almeno non mi parlano nei casi presento non vi posso parlare ma vado in cui si chiama hanno preso come stagio state per la spec ma non mi fate parlare che mi hanno levato tutto scusa ti faccio una veloce per posizione e vabbè c'è una pistola ho ritirato due sordi frate non male va pistola pistola sacco panini ho comprata ieri fratelli perché volevo fare rapine pure io capito non c'è la prenderai in dal culo metterla in bm ti conviene no no ma che ma io poi scappo non ti preoccupa ma no ma io scappo prima grazie per il follo grazie per il follo benvenuto sul canale benvenuto sul canale ma stai eh raga scusate ma sto in live scusate raga dimmi come ti chiami che è il marchese il marchese x il marchese x raga aspetta twitch si si e youtube uguale sempre il marchese bella mi è piaciuta stare a me natalia raga oggi ci hanno preso ci hanno preso come stagio siamo collaborativi vediamo vediamo un po grazie per il follo grazie grazie un altro follo 80 secondi grazie ragazzi per il follo benvenuti sul canale sono in tre adesso eccoli eh stanno arrivati pulotti ragazzi adesso fammo un rp pulito cerca di non parla fuori vai 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 perfetto vai è perchè devo mettere il push doodle capito vai eccoli silenzionate siamo erabili allora attimo che il detective sta arrivando urla però fratellini non te si sente sta arrivando del detective aspettate un attimo no non voglio rinforzi ok sto che vogliamo fare che vuole fare date gli sordi io sono ostaggio date che 200 mila euro vanno 200 mila euro ciao bello mi metto qua a parlare così parliamo meglio ciao bello mi sente detective ma salve ah faccelo cazzo sempre lui forse trovi cos'è non è stato più simpatico no quanto tempo detective però preferisco è arrivato il capitano ma che cazzo ma quanta gente c'è non puntare non puntare non puntare non lo voglio hai l'ostaggio si sono io l'ostaggio date gli soldi guardi lì davanti date gli vanno 200 mila euro vanno 200 mila euro fatemi scevivo sembra più un rapinatore lui di me sto qua davanti al bancone dov'è il bancone eccomi venga sei cieco fatelo dire sto qua davanti al bancone mi vedete io ho visto siamo in tre siete in tre uno dove che vede anche il braccetto la gamma che è lì davanti ok si va bene allora non glielo faccio vedere va bene va bene facciamo cosa vuole per l'ostaggio 200 mila euro vanno vanno 200 mila euro ma l'ostaggio deve contrattare l'ostaggio o contrattare no è che loro mi stanno a dire che vanno 200 mila euro per lasciarmi vivo date gli soldi non voglio morire se ne vanno se ne vanno basta posto riusciamo a sparire a tutti oh questa è la seconda volta che mi veniva l'ostaggio aspetta e diverti ok mi sente? sì perfetto quindi cosa volete per l'ostaggio? 100 mila dollari ok facciamo così le porto 50 mila dollari mi fa uscire l'ostaggio e poi le do le altre 50 no? e poi me lo fa uscire aspetta ci penso ma sta contrattando l'ostaggio? no 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 è risotto ciao bello era il garage centrale bello ma me fate uscire vivo da qua ciao bello se non sbaglio avrebbe la fedina cronale sporca no? è buono ma allora non lo so potrebbe essere lui? signor agente vabbè non lo so ma ce la fa a farmi uscire vivo? sì eh speriamo eh gli dia i soldi che questi non scherzano ok scrivo così non lo so allora mi sente? purtroppo allora quindi cosa allora le do 100 mila dollari e mi fa uscire l'ostaggio ok? sì però voglio tutti dall'altro lato della strada va bene ovviamente che vi muoviate non vi muoviate non mi interessa vi voglio vedere certo l'ostaggio esce quando voi siete dall'altro lato della strada ah così mi scappate di un certo eh no mi spiace no 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 mi fa uscire più l'ostaggio 100 mila dollari gli uomini ti dobbiamo giocciare solo bella potente no? no no assolutamente ti garantisco che ti lascia uscire il video no? ti lascia uscire no sì allora seconda cosa io le do l'ostaggio quando esco anch'io voi vi mettete l'altro lato della strada tutti insieme che cazzo fai un selfie? no ah 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 se fai i selfie ah certo mi devi liberare se fai i selfie fai anche oggi rapina? ah aspetta un attimo aspettate mettiti in video a me mi faccio una bella foto ci facciamo un attacco attaccati alzati ma dai mi devi liberare che fai le foto sono caduto non riesco agente ma come mi devi liberare che fai le foto che fai le foto ma ti sembra il caso? sì vabbè tu alzati un secondo facciamo una cosa no alzati di nuovo alzati eh sì non devi sempre alzati no alzati un secondo e poi ritardi dai ah poi si dovrebbe no fatti che ok grazie mille prego prego la metto come sfondo nel telefono come fa grazie grazie lo so che le piace tanto ha fatto la foto a lei allo stagio alla targa ma anche facendo l'altro rapinatore ce ne sono altri due di repianto da libro assi due addirittura e allora se me lo facciano un secondo se me lo facciano un attimo ci facciamo una foto a tre sì che facciamo ma che stiamo a fare come diva collettiva tiratemi fuori ti pare se mi dice come ti chiamai su instagram ti venga a seguire no sicuro non fa mai male si trattino basso ah ok ok non male trattino basso sarebbe l'underscore guarda la porta dove sto io è inutile che cercavi stavolendo un po' mamma mia allora noi ti chiamo 100 minuti mi dico un po' come si chiama capitano di te che cazzo è oh io sono il capitano ok come si chiama io si alberto mi scusi lei sa il mio di nome non so non posso sapere il suo mi scusi aspetta mi metto come mi metto come lei che è meglio oh chiedi come è vestito oh è caschetto ma che cazzo era mi dico non c'è una cosa delle armi abbastanza brutte no quella era perché quando metto la maschera gli piace così poi io non lo vedo c'è qualcuno ha perso una monetina qua per terra eh se ti alzi in secondo ti faccio vedere beh comunque va bene iniziamo a mettere i 100.000 e le faccio uscire lo sangio dai oh sì però le voglio sul tappeto nino nino sono un'ambulanza ambulanza si le 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 no 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 lasciala lasciala l'auto lasciala l'auto madonna oh stipulizzo ah dove vi chiude frate e stare con la basica di ravina la devi chiudare no rimetta l'auto dove era no la rimetta adesso la rimette subito corri corri madonna mia qua è prima a prendere il cavolo secondo me per trattenermi dato che c'è qualcuno inopro sparo no? sparo no? tutto bene a stampio? mi sente? mi sente? si si la sento allora sai che sta parlando con l'ostaggio? cioè io la sento sono l'ostaggio me ne volete libera? quanti ostaggi siete? eh uno so io questi mi ammazzano se non gli date i sordi date gli sordi non è finito non è finito bello gli altri due agenti dall'altro lato della strada certo bello gli altri due agenti dall'altro lato della strada ma guardate che situazione va bello o da mi sente polizia? dove sta il rabinatore? non lo vedo più sono qui bello ah uebelo aspetti stavo dicendo no vada via vada via eh torni dall'altro lato no a sinistra si eh bravo aspetta la sinistra è questa no allora la tua destra no torna da dove torna dal bancone capra dal bancone quello alla tua destra solo il tiro dall'autolavaggio vai dall'autolavaggio dove stanno andando i banconi? vai dall'autolavaggio l'autolavaggio dove sta con la nervosità? vai dall'autolavaggio non mi farà arrabbiare oh oh non sparate oh 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 e cazzo ah ma perché io devo sta in mezzo a ste cose? ma mi posso spostare? signor rabinatore sta fuimo sta fuimo sta fuimo sta là dietro sta là dietro qua sono morti tutti io ma coglio regà via via oh regà sta buono bravo calcola sto in live bravo ti dico ferma te stavo a nappia la macchina due mi hanno preso come ostaggio a una rapina sono scappato no sei un coione no adesso calcola sono entrati i puliziotti io sono scappato c'ho pure l'arma legale ok ok ok